Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo super professionali, è un'occasione più unica che rara perché non sono a casa mia e questa non è la mia attrezzatura, però ne ho approfittato per fare un video un pochino più come si deve. Quindi oggi faremo un video speciale perché parleremo di Halloween, non so bene quando questo sarà caricato, però è sicuramente anche un'ottima occasione per approfondire un po' di più alcune sfilate che, ok, sono perfette per Halloween, però secondo me sono molto belle ed è sempre utile conoscerle. Quindi in questo video vi dirò 10 sfilate che secondo me sono perfette per Halloween, per questo periodo. Ci sono alcuni nomi che secondo me sono assolutamente indispensabili, cioè alcuni nomi che secondo me vi sono già venuti in mente ancora prima che io li dica e che sono perfetti, perfetti per questo giorno dell'anno. Il primo è Alexander McQueen. Allora possiamo dire che praticamente ogni collezione di Alexander McQueen sarebbe possibilmente un'ottima collezione per Halloween, ma se ne devo scegliere una, io scelgo la Fall Winter 1997, che è una collezione che si ispirava al romanzo L'Isola del Dottor Moreau di Walls, che appunto raccontava le vicende di questo vivisezionista che creava delle figure umanoidi dagli animali. Infatti la collezione secondo me non è solo interessantissima dal punto di vista degli abiti, perché comunque c'è moltissima pelle, ci sono moltissimi anche tagli vivi e forme diciamo asimmetriche, quindi c'è questo sapore un po' selvaggio, ma lo styling, il trucco, i capelli, cioè sono fatti veramente meravigliosamente. Ci sono appunto gioielli per il viso, ci sono corna, i capelli tutti scompigliati, cioè proprio si crea questa sensazione un po' di inquietudine e di paura e le modelle diventano veramente delle creature mostruose, delle bestie selvatiche. Io adoro, più selvagge che selvatiche. Io adoro, è una delle mie collezioni preferite secondo me. Cambiando totalmente tono, passerei da una collezione che secondo me è sempre molto sottovalutata, più che altro è un brand un po' sottovalutato, ed è Betsy Johnson, in particolare la collezione Full Winter 1997. Questo a mio avviso è una collezione sempre molto fiabesca, cioè che riprende delle creature un po' magiche, no? Come la prima collezione che abbiamo visto, ma sì, c'è un aspetto piuttosto dark, secondo me c'è anche il tema sia della strega sia della religione, quindi della lotta tra i due, perché ci sono molte croci, ma anche l'abbigliamento un po' riprende, secondo me, quelle figure femminili molto in contatto con la natura. E si rifà molto, secondo me, al medioevo anche. Secondo me è perfetta anche per delle ispirazioni, tipo ha dei costumi magari un po' più semplici da realizzare, a meno che non siate molto bravi con il trucco, allora potete andare direttamente sulla prima. Però la trovo una di quelle collezioni che secondo me sono molto emblematiche degli anni 90, cioè dove c'è questa autenticità che con poco sforzo ottiene ottimi risultati. Secondo me è una collezione da tenere in considerazione. Sempre per restare sul tema strega, una delle più conosciute, secondo me, io ogni anno in questo periodo la vedo riproposta, è la collezione Spring Summer 1993 di Martin Sidbonne, un brand che oggi penso che non esista più, comunque è un nome dimenticato. Mi ha fatto questa collezione stranamente Spring Summer, perché anche dai colori, comunque dal tema non sembrava proprio molto primaverile. Però dove è molto richiamata la figura della strega, ma proprio in una maniera invece molto classica. C'è proprio con i cappelli, con questi tessuti trasparenti, stratificati, abbinati invece poi anche a velluti e tessuti più grossi. La strega qui rappresentata in maniera molto femminile, ma anche molto sensuale, infatti ci sono delle scollature vertiginose con anche dei gioielli molto mistici, quindi c'è una bellissima foto di Kate Moss con questo cappello grandissimo, quindi è sicuramente molto affascinante come collezione e come ispirazione. Anche questo secondo me è un nome da non perdere. Cambiamo invece totalmente genere e passiamo a Christian Dior. Sì, sembra strano dire Christian Dior in una rubrica di sfilate per Halloween, ma sappiamo tutti chi è che da Christian Dior ha fatto delle collezioni e delle sfilate veramente ricche, proprio di colori, di ispirazioni, di significato ed è proprio lui, John Galliano. Nella collezione Spring Summer 2006. È una collezione molto particolare perché in realtà si è ispirato alla rivoluzione francese, che ha voluto riproporre però in maniera molto splatter, molto gore. Infatti ci sono questi vestiti che hanno proprio delle macchie di sangue, viene ripreso anche l'abbigliamento del Settecento, quindi ci sono corsetti, ci sono poi ampie gonne a paniere, vengono ripresi anche i sudari con i crocifissi, quindi è una collezione secondo me piuttosto intensa e che va ricordata per questo periodo assolutamente. Un'altra collezione che non sento molto nominare in questo periodo, ma secondo me è veramente meravigliosa, è la collezione Full Winter 1997 di Olivier de Isquens. Anche lui è un nome importantissimo nel mondo della moda che secondo me viene un po' dimenticato, è stato avuto sia il suo brand personale con vari problemi, è stato anche direttore creativo. In questa collezione in particolare si ispira agli studi di anatomia, in particolare a quelli fiorentini, e quindi proprio questa collezione con degli abiti che riprendono un po' delle strutture, diciamo, storiche. Secondo me ci aggiriamo intorno al Seicento e al periodo gotico, tutta la collezione poi ha un aspetto molto gotico, anche con queste righe e questi pattern molto utilizzati, ma soprattutto sono state proprio riprese delle parti anatomiche, quindi c'è il bellissimo vestito nero con tutte le vene qua sopra, le vene e le arterie sono riprese anche in un altro look. Poi abbiamo mani sparse su varie modelle e poi ci sono anche, che riprendono un po' il folklore, le modelle mostro, quindi proprio con queste maschere completamente ricoperte di pelo. È una collezione secondo me molto molto bella che non va dimenticata. Restando sempre sul tema gotico-vampiresco, altra collezione che non viene mai presa in considerazione è la Fall Winter 2002 di Gucci. A quel tempo il direttore creativo era Tom Ford e secondo me ha fatto questa collezione che è molto molto vampiresca, ma proprio quel genere di vampiro un po' diciamo stereotipato, c'è quell'immagine che ci aspettiamo di vampiro molto glamour, molto oscuro, ma anche un po' senza tempo. Quindi ci sono tantissimi gioielli a croce con questo trucco molto smoky e tutti i vestiti, tutti i capi presentati sono molto molto sofisticati, quindi questi tessuti lucidi ci sono completi alternati invece con abiti lunghi. Sono proprio dei look comunque molto eleganti, i colori sono tutti scurissimi. Devo dire che è una collezione secondo me sempre molto affascinante da tenere in considerazione. Poi sicuramente è un nome nuovo, ma è impossibile non inserirlo in questo video. Cioè non è un nome nuovo, però è una collezione nuova e queste sono tutte piuttosto passate. Purtroppo la moda in questo momento non se la passa bene, quindi questo è quello che abbiamo. Però quando ci sono degli esempi contemporanei rilevanti sono assolutamente da menzionare. Quindi Maison Margiela, collezione artisanal 2024. Sì, secondo me per questo Halloween ci saranno tanti riferimenti a questa collezione. Per il tema della bambola, che secondo me è molto interessante, il trucco poi di Pat McGrath che ha fatto il giro veramente del globo, quindi sarà sicuramente copiatissimo. Però anche un po' tutte quelle strutture decostruite, anche tutto lo styling che è stato fatto sul volto per dire, con le varie stratificazioni, secondo me possono essere riproducibili. Cioè soprattutto attraverso lo styling è una collezione che, anche per il mood, che può essere molto di ispirazione. E dopodiché abbiamo un nome, sempre per stare sul tema bambole, un nome molto poco conosciuto, giapponese, che è Alice Awa. Io ancora adesso non so se questa è la pronuncia giusta. Con questa collezione Fall Winter, non l'ho segnato. Penso Fall Winter 2013, ma non ne sono sicura. Si tratta di un brand molto di nicchia, ha uno stile veramente molto gotico e molto molto scuro. E in questa collezione, secondo me, c'è di nuovo questo tema della bambola. In questo caso, però, è proprio una bambola nella sua casa, dimenticata in soffitta, quindi piena di ragnatele, che piano piano si decompone e si rovina, ma comunque ancora molto affascinante, secondo me. Quindi ci sono proprio questi vestiti un po' che riprendono la figura della gothic lolita giapponese, quindi molto interessante, secondo me. Passiamo poi ad un altro nome che, secondo me, è impossibile non nominare in queste circostanze, ed è Thierry Mugler. Thierry Mugler è conosciutissimo per le sue collezioni teatrali, dove c'erano proprio questi temi che vincolavano l'intera collezione, vincolavano forse un termine un po' che sembra negativo, proprio che trainavano queste collezioni, cioè le sfilate duravano anche 40 minuti, c'erano finita di look, cioè veramente un sogno, proprio uno spettacolo. E quella a cui faccio riferimento in modo particolare è la Full Winter 1995, sicuramente una delle sue più famose. La parte interessante è sicuramente l'approccio fantascientifico, che infatti è la collezione dove c'era la famosa armatura robotica, che si incontra però allo stesso tempo con delle ispirazioni anni 40 e 50, quindi ci sono tanti corsetti, tante giacche strutturate, questi comunque erano elementi classici, diciamo, per Mugler, che però in questo caso si sono uniti proprio a dettagli metallici. Anche questa è una collezione sicuramente molto molto famosa, ma molto drammatica, perfetta per Halloween. Terminiamo poi con una collezione che la metto qui, perché secondo me è interessante, però sicuramente è un po' concettuale, ok? Diciamola così. Ed è la collezione di No Arcaninomia, in particolare la Fall 2021, che si chiama Metal Couture. Ed è questa collezione che sembra avere sugli abiti tutti questi aghi, che vanno all'infuori, quindi mi ricorda veramente una creatura aliena, cioè un look proprio in questo caso futuristico, più, diciamo, con un linguaggio nostro contemporaneo. E secondo me, con un po' di fantasia, soprattutto tipo i cosplayer, quelle persone lì che sono più abituate ad un lavoro pratico, diciamo, secondo me sono anche riproducibili, insomma, diciamo, un'imitazione, perché le collezioni di No Arcaninomia sono sempre molto complesse a livello tecnico dei materiali, però veramente in questo caso secondo me è adatta, comunque troverà soddisfazioni colui o colei che cerca, diciamo, delle ispirazioni un po' diverse, che magari è stanco delle solite cose, lei cerca di qualcosa di più. Secondo me No Arcaninomia in generale può darvi tante soddisfazioni, ma questa collezione in particolare molto molto bella e molto molto particolare. Bene, ho terminato le sfilate, però vi avviso che questo è tipo il terzo video di sfilate che faccio e sia su IG sia su TikTok ho fatto altri video sulle sfilate dove ci sono anche degli altri nomi, quindi se vi piace questo tipo di video, se volete comunque conoscere dei nomi di sfilate importanti, perché questi sono tutti molto importanti, e volete anche guardarvele perché tante ci sono su YouTube, alcune le ho viste anche proprio sul sito del brand che le ha ancora, bellissimo. Ecco, sappiate che troverete là degli altri nomi. Intanto vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che sia stato magari un po' più leggero del precedente, che invece era un pochino più strong e anche molto più lungo. Il prossimo tornerà ad essere comunque un video a riflessione sul sistema moda, quindi anche lì sarà abbastanza complesso, ma secondo me sono delle discussioni che dobbiamo affrontare. Detto questo, grazie mille per essere arrivati fino a questo punto, lasciatemi un like su tutto il video, commentate anche con le vostre sfilate preferite del periodo, se ci sono alcune che conoscete, che non conoscete da questo video, che altri suggerimenti che volete dare, lasciamo qua nei commenti una bella discussione, e ci vediamo al prossimo video. Buon'allumina a tutti. Ciao!